non ce la faccio, non ce la faccio, scusate what day a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questa nuovissima recensione ebbene ragazzi quest'oggi ci vediamo appunto per parlare un pochettino di un film che ho guardato ieri al cinema avrete già capito tutti qual è appunto dal titolo, dalla minatura, si tratta ragazzi dell'ultimo film di Ridley Scott Napoleon che è uscito nelle sale il 23 novembre quindi è uscito veramente da poco e nonostante questo ha già fatto parlare parecchio di sé però purtroppo più in senso negativo che positivo. Io metto le mani avanti come sempre ragazzi faccio queste premesse io non sono un critico cinematografico, amo i film, amo il cinema ma non per questo mi ergo a giudice supremo di chissà che cosa assolutamente no, quindi quelli che sentirete in questa recensione sono pareri puramente personali quindi quelle di cui vi parlerò sono le mie personali impressioni riguardo questo film sono andata a vederlo appunto ieri sera allo spettacolo delle nove, il film dura non poco ragazzi perché credo che duri più di due ore e mezza quindi se avete intenzione di andarlo a guardare preparatevi perché comunque non è un film breve ma a me personalmente la durata non spaventava perché comunque ci sono tanti film lunghi che io adoro quindi non si tratta ragazzi della durata, anzi ne ero anche abbastanza contenta sinceramente e tra l'altro ci sono andata senza farmi minimamente influenzare da quello che avevo letto fino a ieri mattina sui social perché come vi dicevo appunto poco fa questo film è stato discusso veramente parecchio dalle persone che l'hanno visto al cinema ed è stato anche parecchio criticato sinceramente non avendolo visto quindi prima di guardarlo ragazzi ovviamente non potevo capire il motivo di quelle critiche e quindi proprio per questo mi sono detta io andrò in sala senza minimamente appunto farmi influenzare da quello che ho letto perché ovviamente ragazzi anche in questo caso nonostante tutto quello che dirò in questa recensione io non vi dirò non andatelo a guardare perché non è giusto comunque proprio perché ragazzi poi ognuno si fa una propria idea di un determinato prodotto no? in questo caso di questo determinato film quindi non vi dico non andatelo a guardare perché magari chi per un motivo a chi per un altro il film può anche piacere e dicendo questo quindi ovviamente anche grazie al titolo ragazzi questo video capirete benissimo che purtroppo per me questo film è stato una immensa ed amarissima delusione faccio altra piccola premessa per chiunque abbia visto le mie reaction perché ho fatto un paio di reaction ai trailer che erano stati fatti insomma ragazzi uscire prima dell'uscita del film sa benissimo che io avevo già espresso il mio immenso entusiasmo nei confronti dell'uscita di questo film perché e lo ripeto appunto perché ragazzi napoleone è uno dei miei personaggi storici se non forse il mio personaggio storico preferito in assoluto quindi sono sempre stata immensamente affascinata da questa figura storica e inoltre ero entusiasta sia per il regista ovviamente che era a direzione di questo film parliamo comunque di Ridley Scott ragazzi che ha fatto veramente tanti bei film ed ero ancora più entusiasta per il fatto che a interpretare il mio personaggio storico preferito fosse il mio attore preferito sarebbe a dire Joaquin Phoenix quindi per me ragazzi questo film e non esagero nel dirlo era veramente un sogno che si realizzava cioè un film su Napoleone diretto da un grandissimo regista e te lo interpreta il tuo attore preferito cioè ragazzi una quadratura del cerchio migliore non ci poteva essere quindi il mio entusiasmo era veramente alle stelle quindi non vedevo l'ora che uscisse quando ho guardato i trailer ero comunque rimasta piacevolmente colpita e avevo veramente buone sensazioni riguardo questo film e io vi ho sempre detto che di solito e risottolineo il di solito le mie sensazioni riguardo a certe cose non si sbagliano purtroppo ragazzi eccezione che conferma la regola questa volta le mie sensazioni si sono sbagliate perché il mio entusiasmo alla vista dei trailer era tantissimo era tantissimo all'idea di tutto quello che vi ho detto un attimo fa e quindi ieri sera sono andata al cinema nonostante tutto con proprio le migliori intenzioni cioè con lo spirito di dire ah che bello mi vado a vedere questo film ok fatto sta ragazzi che purtroppo sono uscita dalla sala con la voglia veramente di piangere ragazzi veramente di piangere perché Ridley Scott aveva l'opportunità di fare un qualcosa di grandioso su questo personaggio storico altrettanto grandioso con questo attore altrettanto grandioso e l'occasione l'ha secondo me letteralmente buttata nel cesso ragazzi il film dura tantissimo vi ho già detto che a me piacciono tanti film che sono tanto lunghi quindi a me la durata non mi ha spaventato ma vi dirò che purtroppo in questo caso la durata mi ha pesato ragazzi mi ha pesato cioè a parte che il film ovviamente è incominciato in ritardo e ad un certo momento ragazzi mi sembrava veramente che non finisse più e mi dicevo ma quando finisce ma quando finisce ma quando finisce già quando ragazzi ti capita questa cosa vuol dire che qualcosa non va ok questo significa che ovviamente il ritmo del film l'ho trovato estremamente lento nonostante per assurdo ragazzi nel film in certi momenti facciano le cose veramente molto di fretta io adesso altra premessa ragazzi non mi sono scritta nulla per questa recensione sto andando a braccio quindi probabilmente durerà un pochettino questo video ma volevo appunto che le idee mi uscissero dalla testa così in maniera completamente naturale quindi non mi sono scritta neanche una scaletta quindi vi parlerò un pochettino ragazzi andando di qua di là delle cose che mi vengono in mente potrebbe essere ragazzi che ci sarà qualche spoiler per cui vi avviso adesso quindi se doveste volerlo ancora andare a vedere stoppate qui il video magari tornate qui più avanti o se non vi dovesse importare a posto così quindi vi dicevo che il film mi è sembrato estremamente lento nonostante ci siano momenti ragazzi in cui invece le cose quindi le vicende nel film accadano particolarmente di fretta specialmente secondo me nella parte iniziale del film ci sono questi eventi che si succedono e si susseguono ragazzi in maniera veramente veloce io allora capisco perfettamente che fare un film sulle gesta chiamiamole così di Napoleone non è facile perché ovviamente ragazzi lui c'è stato veramente per tanti anni e ha fatto talmente tante cose che raggrupparle in due ore è quasi impossibile quindi io capisco benissimo questa cosa qua ma secondo me uno dei problemi fondamentali di questo film ragazzi è la scrittura questo film è stato scritto e ripeto secondo me veramente male da diversi punti di vista e l'impressione che mi ha dato per quanto riguarda appunto ragazzi questa successione di eventi è che questo film sia composto da scene attaccate le une alle altre ma senza un senso cioè senza un filo che sia logico nel senso è ovvio che c'è un filo logico perché comunque tu stai parlando sempre dello stesso personaggio e quindi il tempo va avanti però il fatto che il tempo vada avanti ragazzi si capisce solo ed unicamente grazie al fatto che ogni tanto ci hanno messo la data e il luogo quindi tu capisci che il tempo sta scorrendo grazie a questa cosa qua ma in effetti cioè andando avanti nel film ragazzi sembra quasi che il tempo non passi intendo proprio nella storia sembra che il tempo non passi cioè arrivi alla fine del film e tra l'altro notato anche questa cosa qua sembra che i personaggi non invecchino il che è assurdo perché comunque veramente parliamo ragazzi di diversi anni io penso più di 20 forse 30 anni non lo so cioè anni che comunque sono passati ma non te lo fanno notare cioè non te lo fanno notare sui personaggi cioè voglio dire quando uno invecchia di 20 anni di 30 anni comunque le differenze si notano qua invece sui personaggi gli anni che passano non li noti quindi se non ci avessero messo le date e i luoghi cosa che comunque sono stati costretti a fare ovviamente per avere i riferimenti storici secondo me uno manco capirebbe cioè non ci capirebbe niente ragazzi cioè non ci si capisce niente a livello temporale sono tante pezze attaccate le une alle altre e in maniera conseguenziale cioè sembra veramente che sono eventi cioè completamente scollegati gli uni dagli altri se non dal fatto che il personaggio è lui quindi è collegato comunque a quest'altro personaggio ragazzi sta ben eretta a Giuseppina che adesso ne parleremo e cioè boh sembra come sospeso sembra come sospeso nel tempo anche perché tra l'altro quindi non solo il film secondo me è stato scritto male da questo punto di vista ma è stato scritto male anche da altri punti di vista proprio per quanto riguarda i dialoghi che a volte sembrano ragazzi veramente un po' assurdi cioè un po' strani comunque il periodo storico è quello e non mi sembra che ci sia l'autorevolezza forse che magari avrebbe potuto esserci nei discorsi fra uomini politici in quel periodo è stato scritto male dal punto di vista quindi dei personaggi ragazzi cioè secondo me sono stati scritti male anche questi beneretti personaggi cioè qua ragazzi veramente si potrebbe stare a parlare per ore quindi le idee mi si accavallano in testa mi sto confondendo da sola vi dirò sinceramente ma quindi proprio dal punto di vista temporale sono speso nel tempo sono speso nel tempo se non per il fatto che grazie alle date tu capisci che stanno passando anni principalmente se no per il resto ho nulla di fatto ragazzi dopodiché quindi per quanto riguarda io adesso non mi voglio soffermare sulle esattezze storiche perché per quanto Napoleone sei il mio personaggio storico preferito ragazzi l'ho studiato a scuola ovviamente tanti anni fa e quindi ho rimosso purtroppo gran parte delle cose che ho studiato quindi non voglio mettermi a parlare di esattezze storiche perché sono l'ultima proprio su questa terra che può farlo ma visto che sono andata a guardare il film ragazzi insieme anche a mia mamma che invece c'è una capa grossa così c'è proprio una testa immensa per quanto riguarda soprattutto la storia quindi mia mamma la storia se la ricorda veramente molto bene anche quella di Napoleone a sentire quello che ha detto lei ragazzi ci sono anche parecchie esattezze storiche ora ovviamente il discorso è non è un documentario non è una docuserie non vuole essere ok ragazzi va benissimo tutto quello che vogliamo ok pure noi siamo andati lì con l'idea del non è un documentario quindi ok magari si può soprassedere per quanto riguarda certe inesattezze storiche ma il fatto che per esempio ragazzi non siano state tirate in ballo cose importanti della carriera di Napoleone tipo la campagna d'Italia che a quanto so e comunque ricordo quel poco che ricordo e che ho capito era insomma veramente un passaggio fondamentale della carriera di Napoleone quindi che tu magari non mi metti elementi storici comunque che sono veramente importanti per il personaggio di cui mi sta raccontando e invece mi perdi ragazzi cioè veramente due ore per stare appresso alla benedetta storia d'amore con questa benedettissima Giuseppina sinceramente rimango un pochettino perplessa perché qua ovviamente io credo che Ridley Scott abbia voluto analizzare il personaggio di Napoleone ok da un altro punto di vista va bene quindi non voleva forse starsi a soffermare su ogni singolo evento storico perché voleva stare forse più ad analizzare il lato caratteriale del personaggio ma non così cioè non me lo fare così a parte che per ritornare alle questioni storiche ragazzi appunto certe situazioni sono state cambiate in funzione sempre della storia d'amore con Giuseppina cioè per quanto riguarda la campagna d'Egitto ragazzi mi sembra di aver capito da quello che mi ha detto mia mamma che lui comunque fosse tornato dall'Egitto in Francia per questioni politiche sempre invece qui lui torna di corsa dall'Egitto perché scopre che la moglie lo tradisce cioè perché per esempio stravolgere realtà storiche in funzione di una cosa che forse fondamentalmente allo spettatore neanche tanto interessa perché ragazzi adesso diciamoci la verità uno va a guardare Napoleon si aspetterebbe un film della Madonna sulla storia sulle gesta di Napoleone non di Napoleone con Giuseppina non della loro vita privata che per carità di Dio può anche essere che ovviamente ragazzi questa donna abbia avuto una importanza cruciale nella sua vita però secondo me regà l'ha cagata proprio male cioè l'ha cagata proprio male perché poteva comunque inserirlo cioè avrebbe comunque potuto inserirlo nel film questo rapporto fra di loro che molti definiscono tossico io sinceramente non so perché lo si definisca così però cioè poteva comunque inserirlo però non puoi far ruotare un intero film su Napoleone attorno al loro rapporto cioè perché io vengo a guardare Napoleone io voglio che tu mi racconti di quello che quest'uomo ha fatto voglio che tu mi faccia vedere che ok che uomo fosse anche magari nel privato però principalmente ragazzi cioè ci si ricorda di Napoleone per quello che di grande ed immenso ha fatto ok quindi questa cosa a me ha fatto girare veramente tantissimo le scatole veramente tantissimo le scatole perché secondo me ha rovinato tutto ha rovinato tutto facendo ruotare tutto il film tutta la questione solo ed unicamente attorno a questa cosa qua cioè praticamente ragazzi le battaglie le mosse politiche le decisioni politiche sono state soltanto uno scarno contorno al rapporto malato diciamo malato tra virgolette con questa donna cioè che sinceramente ripeto perlomeno poi parlo personalmente ragazzi a me frega cazzi cioè del rapporto che aveva con Giuseppina non lo so vabbè e quindi ho detto non mi soffermo sulle inesattezze storiche anche se penso che a chi conosce la storia ragazzi questo possa dare un pochettino fastidio però ritorniamo all'argomento non è un documentario e va bene quindi andando avanti perché ho detto che questi personaggi sono stati scritti proprio male allora io adesso ho parlato in generale ma mi soffermo ovviamente sul personaggio principale sarebbe a dire il personaggio di Napoleone che sicuramente come ogni essere umano ragazzi aveva le sue debolezze aveva le sue caratteristiche aveva il suo carattere aveva i suoi modi di fare quindi ok me lo vuoi rappresentare ma secondo me è stato rappresentato in una maniera ragazzi passatemi il termine quasi ridicola cioè quest'uomo ragazzi nella sua vita faceva paura alle altre persone ma in che senso cioè proprio dal punto di vista del potere cioè era un uomo che aveva acquistato un tale potere che faceva paura alle altre nazioni sono state create alleanze fra le nazioni contro di lui quindi cioè quando tu mi nomini Napoleone io mi immagino un uomo che comunque abbia un certo spessore personale ok che poi ripeto magari nel privato aveva i suoi pro e i suoi contro come ogni benedetto essere umano che si rispetti ma non me lo puoi dipingere così cioè ragazzi veramente a me mi ha dato cioè se non lo so io ho guardato il film ho pensato ma questo chi è cioè ma perché cioè perché l'hanno perché l'hanno fatto così ma anche tipo nell'ambito ragazzi militare poi ovviamente non so a livello storico quante testimonianze ci siano sulla personalità di Napoleone però sembrato che in questo film sia stato dipinto come un perfetto imbecille ecco lasciatemelo dire a me mi ha dato proprio l'impressione in questo film che fosse un perfetto imbecille cioè ci sono situazioni anche in cui sembra quasi essere stato messo in ridicolo cioè non ve lo so descrivere ragazzi non ve lo so descrivere cioè io mi aspettavo veramente cioè cavolo ripeto tu vai a vedere un film su Napoleone ma porca vacca ti aspetti c'è una rappresentazione di sto personaggio che ti deve far trema i polsi che ti deve far solleva tutti i peli che c'ha in corpo a me non mi ha dato niente ragazzi allora io ovviamente sono innamorata di Phoenix quindi vederlo sul grande schermo cioè sempre ogni tanto capito mi dava quella quella botta di oddio no cioè nel senso lo amo lo adoro però cioè poi mi concentravo sul fatto sta interpretando Napoleone e non mi sta dicendo niente sta interpretando il mio personaggio preferito storico e non mi dice niente e questa è una cosa tristissima ragazzi una cosa terribile cioè io quando vedo qualche qualcosa quando vedo un personaggio che mi piace interpretato in una maniera cioè in una maniera degna di di essere veramente notata cioè ma io vado in estasi cioè mi basta vedere Phoenix che interpreta ragazzi nel film Joker dai su io vado in estasi io me lo so tatuato cioè io ce l'ho tatuato Phoenix ragazzi questo per farvi capire quanto io ami quest'attore perché è un attore che c'ha raga capacità impressionanti ma basta vederlo in tanti altri film e in questo film ma non è colpa sua non è colpa sua ragazzi in questo film non mi ha trasmesso niente e lo dico c'è proprio col dolore nel cuore ragazzi cioè proprio mi si sta stracciando il petto in questo momento ve lo giuro ma non mi ha trasmesso niente ma non è colpa sua perché il personaggio è stato scritto così è stato scritto così gli è stato detto come doveva comportarsi cosa doveva fare quindi probabilmente come le cose gli sono state dette lui li ha fatte probabilmente al top di quello che poteva ma più di quello non poteva fare perché è stato limitato da questo personaggio che è stato scritto in una maniera veramente abberrante ragazzi lasciatemelo dire quindi non è colpa di phoenix perché lo sappiamo le capacità che c'ha phoenix è proprio il personaggio come è stato scritto e io ancora ragazzi sto cercando di chiedermi e di capire il perché non ancora non ancora non riesco a darmi una risposta poi per quanto riguarda gli altri personaggi ragazzi ritorniamo anche adesso alla scrittura del film in generale cioè questo film tutti questi pezzi attaccati gli uni agli altri cioè non hanno un senso avrebbe avuto senso cioè non ci hanno messo un pochettino di aspetto politico che comunque era fondamentale ragazzi perché era fondamentale non è stato spiegato perché lui è arrivato dove è arrivato cioè in certi momenti quando ragazzi si elegge imperatore praticamente così improvvisamente da un momento all'altro ah vai diventa imperatore no perché perché poi tra l'altro ce lo presentano ragazzi all'inizio del film ce lo presentano boom così lui è capitano ah va a fare questa questa battaglia ok ho vinto a Tolone così improvvisamente sì ma lui chi è chi è Napoleone Bonaparte perché è lì perché è arrivato lì cioè anche un minimo del suo passato non hanno analizzato nulla non hanno analizzato nulla ragazzi cioè come come è arrivato dove è arrivato perché cioè poi sono successe le cose che sono successe no ragazzi cioè principalmente hanno attaccato tutti questi eventi principali evidentemente della sua carriera chiamiamola così li hanno appiccicati gli uni agli altri e li hanno messi così a caso ogni tanto inseriti giusto per ricordarci che si stesse parlando di Napoleone di contorno appunto alla storia con Giuseppina punto questo è il film ragazzi questo è il film non ha senso non ha senso non è giusto cioè non non gli ha reso giustizia per niente ma proprio per niente poi per quanto riguarda altri aspetti del film ragazzi appunto gli altri personaggi sì vabbè l'altro personaggio principale è quello di Giuseppina la tipa sì è stata brava ma cioè gli altri personaggi anche nella storia di Napoleone ci sono tanti personaggi storici anche importanti e in questo film ragazzi non ce n'è uno di spicco cioè ci sono sì diversi personaggi ti ripresentano Tizio e Caio ma non sono niente cioè nessuno sa di niente a nessuno è stata data magari l'importanza che meritava cioè secondo me ce li hanno messi perché ci andavano messi punto cioè è finito lì quindi cioè non c'è non c'è sostanza non c'è sostanza dal punto di vista dei personaggi dal punto di vista della storia ragazzi che ve lo dico a fa' niente cioè ve l'ho detto fino ad ora come è strutturato questo film cioè è strutturato proprio male male senza senso non c'è non c'è un filo non c'è niente non quindi pure da quel punto di vista raga per me bocciatissimo cioè per dire bocciatissimo poi sto personaggio che è stato dipinto come un emerito imbecille quindi ancora di più bocciatissimo poi per quanto riguarda altri aspetti di questo film non posso dire che sia un brutto film perché cioè perlomeno da altri punti di vista ragazzi ok non di questi che vi ho elencato fino ad ora perché comunque da altri punti di vista è fatto molto bene cioè dal punto di vista registico anche se ovviamente essendo un film diciamo storico tra molte virgolette non è che Scott si potesse inventare chissà che tipo di regia ok quindi ci sta quindi dal punto di vista registico ci sta dal punto di vista della fotografia vi devo dire che non mi ha convinto fino in fondo mi ha convinto soltanto in determinati momenti per il resto abbastanza anonima anche se comunque appunto cioè pure le situazioni non è che permettessero chissà quale fantasia di fotografia è questo ok dal punto di vista della colonna sonora pure ragazzi vi dirò sinceramente cioè mi ha detto poco e niente a parte che hanno inserito appunto brani credo realmente esistenti che in certi momenti manco tanto mi hanno convinto sinceramente cioè in certi momenti sembravano messi lì giusto per giusto per metterci qualcosa quindi pure questo non mi ha convinto fino in fondo per quanto riguarda ragazzi allora l'unica cosa che mi ha realmente convinto in questo film le scene di battaglia allora da quel punto di vista ragazzi io alzo le mani in questo film per quello insomma per le battaglie ragazzi è stato fatto un lavoro eccelso cioè meraviglioso veramente qui non posso dire niente sarei veramente una bugiarda se dicessi che pure quello non mi è piaciuto perché le uniche scene che davvero ragazzi mi hanno trasmesso qualcosa sono state quelle delle battaglie ok che però purtroppo non è che abbiano avuto tanto spazio in questo film perché ragazzi su due ore e mezza forse che dure il film io credo che al massimo ci sia mezz'ora non lo so adesso dovrei riguardarlo per dirlo con precisione ma penso che più di mezz'ora di scene di battaglia non ci siano però appunto come vi dicevo ragazzi lavoro eccezionale c'è lavoro eccelso bellissima la regia durante le scene di battaglia bellissimo tutto c'è le scenografie ragazzi luoghi che hanno scelto le comparsi io non so quante comparse ci siano state vabbè ovviamente adesso c'è anche la CGI però devo dire tutto fatto meravigliosamente cioè le uniche cose veramente emozionanti sono state le battaglie ragazzi cioè le uniche scene le uniche scene che mi hanno emozionato questo film sono state queste dirette benissimo la fotografia stupenda e lì veramente ragazzi cioè in quei momenti quelli sono stati gli unici momenti in cui io guardavo Phoenix nei panni di Napoleone mi dicevo oh cioè forse sono stati gli unici momenti in cui qualcosina mi ricordava che si stesse parlando di Napoleone Bonaparte forse quelli ma solo nei momenti concitati delle battaglie ok se no per il resto è tutto quello che vi ho detto ragazzi fino ad ora cioè io credo non ci sia molto altro da aggiungere poi ragazzi c'è la pesantezza veramente la pesantezza immensa di questa presenza di Giuseppina in questo film io credo che il nome Giuseppina in questo film venga ripetuto almeno diecimila volte ragazzi ovviamente esagero ma neanche tanto perché veramente dall'inizio alla fine ragazzi un bombardamento mo ci vuole alle palle di questa questione di Napoleone che era in fissa con questa una palla ragazzi cioè tu non mi puoi fa due ore e mezza di film e farmi due ore di scene tra l'altro a volte ragazzi secondo me di alcune di molte non c'era manco bisogno cioè proprio per allungare sto brodo incredibile di questo rapporto tossico fra i due tutte ste scene che a volte sembrano pure quasi le une uguale alle altre ragazzi è una palla immensa veramente è una palla immensa quando si arriva alla fine che finalmente questo personaggio esce di scena c'è un attimo ti dici posso un attimo respirare anche se poi sempre fino alla fine c'è questa presenza in ogni caso ma perché sicuramente nella sua vita nella sua mente c'è sempre stata sta presenza ma io no non lo voglio mettere in dubbio ragazzi solo che ripeto quello che ho detto prima secondo me è stato sbagliato proprio tutto il concetto di fondo di questo film io non riesco a capire cosa avesse in mente Ridley Scott cosa volesse trasmettere attraverso questo film cosa pensasse di comunicare alle persone su Napoleone io ho una piccola idea me la son fatta perché perché alla fine del film quando lui quindi alla fine muore e questo non è uno spoiler perché ovviamente ragazzi a un certo punto Napoleone è morto e quindi quando finisce sto film alla fine prima di titoli di coda hanno praticamente scritto quindi esce una schermata dove praticamente scrivono i nomi dei posti dove Napoleone ha combattuto le sue battaglie e a fianco il numero dei morti di quelle battaglie alla fine frase lunga quindi il totale di morti che Napoleone ha causato e la prima domanda che mi è sorta è stata ma perché perché metterci questo dettaglio alla fine che cavolo significa che cosa stai cercando di dirmi e quindi da qui è rinato tutto il mio ragionamento ragazzi sul perché cioè cosa cosa ha cercato di comunicare Scott con questo film su Napoleone del fatto cioè mi sembra ragazzi adesso vi ripeto un parere mio personale ma comincio a credere che questo film perlomeno che questo personaggio sia stato scritto volutamente così male comincio a credere che sia stato voluto il fatto di farlo apparire come un perfetto imbecille il fatto di farlo apparire come un ometto che non valeva niente che invece ha cercato di conquistare tutto quello che poteva forse per compensare alle sue piccolezze non lo so non lo so ragionamento mio comincio a credere che abbia voluto dipingere Napoleone come quello che magari noi non siamo abituati a vedere studiando lo suo libri di storia cioè come un uomo che non valeva niente che aveva mille mila problemi che per invece sentirsi qualcuno per sentirsi importante per sentirsi potente alla fine ha sacrificato tutte queste persone mandandole a morire pur di arrivare dove è arrivato a me sembra che l'intento fosse questo ragazzi perché quella schermata alla fine col numero di morti che ha provocato a me fa pensare a questo cioè stiamo continuando ragazzi quindi che significa cioè continuiamo a cercare capri spiatori da accusare per ricordarci che l'essere umano è una merda quindi cioè l'intento del film doveva essere questo fatemi capire che anche un uomo grande come Napoleone però alla fine è stato un grandissimo stronzo perché ha portato alla morte tutte queste persone e quindi ci ricordiamo che l'essere umano è una merda quindi cioè dobbiamo praticamente distruggere un personaggio come quello di Napoleone Bonaparte con tutti i suoi difetti per carità lo dobbiamo distruggere lo dobbiamo annientare proprio lo dobbiamo smolecolizzare per ricordarci che l'essere umano sa essere una grandissima merda non lo so io lo interpreto così ragazzi come se ce ne fosse bisogno capito come se ce ne fosse bisogno di tornare indietro nella storia come se non sapessimo quanta merda ha buttato l'essere umano sull'umanità fino ad ora quindi torniamo indietro e devastiamo un personaggio simile per ricordarci cosa non dobbiamo fare in pratica ok grazie Scott davvero avevo bisogno di questo per ricordarmi quanto l'essere umano possa fare schifo ma anche no per me è no ragazzi perché io non ho bisogno di cose del genere per capire cose simili poi vi ripeto è una mia interpretazione probabilmente l'intento non era questo forse ho interpretato male io non so voi che idea vi siete fatti di questa cosa qua ragazzi ma quindi per riassumere alla fine tutto questo film per me è un disastro colossale qualsiasi fosse l'intento di Ridley Scott per me è stato una delusione grandissima come vi dicevo inizio video non lo so io mi aspettavo un colossal ragazzi diciamo aspettavo veramente qualcosa di epico che poi ripeto se l'intento di Scott davvero è questo avrebbe comunque potuto farlo cioè avrebbe comunque potuto cercare di comunicare questa cosa qui ma in un altro modo non svilendo così tanto ragazzi questo personaggio storico che comunque con i suoi pro e i suoi contro ha fatto veramente la storia dell'essere umano ragazzi da tanti punti di vista quindi io non accetto questa cosa mi dispiace non l'accetto non l'accetto anche perché cioè come se fosse stato l'unico al mondo a provocare tot morti no giustamente però siccome abbiamo abbastanza di dare addosso a Hitler cerchiamo qualcun altro ovviamente ma per me no per me è un grandissimo no questo film vi ho detto si salva forse solo per per un paio di cose due tre cose la regia la fotografia in certi momenti le battaglie le scene delle battaglie che sono meravigliose ma per il resto per me da buttare ragazzi da buttare mi dispiace ma non mi dispiace perché mi ha distrutto veramente ha distrutto un personaggio che io ho sempre amato che ho sempre adorato ripeto con tutti i suoi pro e i suoi contro non accetto questa cosa qui per me questo film è un disastro voto non gli darò un voto ragazzi penso che non ci sia un voto cioè per descrivere la delusione che ho ricevuto andandola a guardare per il resto vi ripeto non vi dico non andate al cinema andate al cinema andatelo a guardare per certe cose ne vale la pena ovviamente così vi fate anche voi una vostra idea ragazzi non vi fate influenzare da quello che dicono appunto le altre persone perché magari vi potete privare della possibilità di fare una bella esperienza al cinema soltanto perché avete letto qui e là che il film è una merda fondamentalmente quindi non vi fate influenzare neanche da quello che ho detto io poi magari se ne discuterà più avanti lo andrete a vedere magari potrete tornare qua sotto per dirmi sono d'accordo non sono d'accordo chiunque l'abbia già visto ragazzi ovviamente io aspetto anche i vostri pareri qua sotto in commento perché ci tengo a sapere più pareri possibili riguardo questo film io non credo che lo guarderò mai più ragazzi cioè una volta mi è abbassata e mi è avanzata sinceramente rivedermi così tanto svilito questo personaggio storico sinceramente non mi va quindi come sempre appunto ragazzi aspetto i vostri pareri qua sotto in commento questo video termina qui grazie a tutti un bacione e obdoscia a tutti i ragazzi da giocherino ciao